Perla e Mirko nel pieno di una crisi? Come avrebbero beccato lui Mirko Brunetti e Perla Vatiero starebbero affrontando una vera e propria crisi per via di una segnalazione La coppia diventata famosa per aver partecipato a Temptation Island prima e al grande fratello poi, pare sia in affanno per quanto rivelato da Amedeo Venza, noto esperto di gossip Perla e Mirko nel pieno di una crisi? Come avrebbero beccato lui? Mirko Brunetti e Perla Vatiero parteciparono insieme allo show dei sentimenti, Temptation Island Dal programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia i due uscirono con i loro rispettivi tentatori, chiudendo la loro relazione che andava avanti da quasi 5 anni Brunetti e l'Avatiero si sono poi ritrovati all'interno della casa del grande fratello Ad aggiudicarsi la vittoria del reality show di Alfonso Signorini proprio Perla Un percorso di rinascita per lei? Perla Vatiero, Mirko Brunetti l'ha tradita? Amedeo Venza ha lanciato un gossip bomba. Questi ha svelato che Mirko Brunetti ha trascorso una giornata in piscina con un suo amico e due ragazze, aggiungendo poi che il ragazzo avrebbe eliminato le storie Perché lo ha fatto? Mirko Brunetti ha trascorso la giornata con un suo amico, che ha pubblicato delle storie e le ha tolte poco dopo, e altre due belle ragazze Una è lei, infatti, la piscina è la stessa. Tutto questo, pare, all'insaputa di Perla, le conclusioni di Venza Perla Vatiero e Mirko Brunetti nel pieno di una crisi, lui beccato in piscina Mirko Brunetti ha replicato alle insinuazioni sulla sua giornata di relax con alcuni amici e amiche all'insaputa di Perla Vatiero, sono costretto a precisare, e sapete bene quanto a me non piaccia fare certe cose, che tutto quello che sta girando è solamente frutto della fantasia di qualcuno Una giornata di relax con gli amici è stata trasformata dai soliti noti in qualcosa di assurdo, seguendo volontariamente la strada più cattiva Il ragazzo ha aggiunto Detto questo, confermo la mia presenza in quella casa giusto il tempo di un aperitivo o più di lì e invito chiunque a poter dimostrare dove sia effettivamente il mio grave errore Probabilmente, non c'erano altre immagini da mostrare se non quelle dove si vede qualcuno che non sono io A sottolineare la poca intelligenza di chi riporta certe notizie, è stata l'omissione intenzionale dei padroni di casa, dei loro amici e dei bambini con cui ho avuto il piacere di giocare e scherzare La replica durissima dell'ex GFino, Brunetti ha dichiarato La storia cancellata dal mio amico, che tra l'altro sta subendo minacce e offese indicibili, non aveva nulla a che fare con quanto riportato e soprattutto non con me, era stata fatta a casa sua e tolta perché con la targa della macchina visibile Inutile precisare di non avere dormito in quella casa, perché trovo tutto questo deprimente e pericoloso Mirko ha confermato la crisi tra lui e Perla. Queste notizie stanno provocando gravissimi problemi personali e non ho motivo di nasconderlo Perciò stavolta verranno presi provvedimenti molto seri verso chi si ostina a calpestare la mia dignità e soprattutto la mia correttezza